Ok 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 va bene questa volta mi vedete con questa skin di un alberello che non ho mai utilizzato E non è che sia così tanto bella ma quest'oggi tenetevi forte non sto scherzando Ok tenetevi nella scrivania nel banco di scuola in qualche parte Perché quest'oggi vi mostrerò come ottenere gratuitamente la skin di Lazarbeam su Fortnite Italia, Europa, quello che cavolo volete voi Mi raccomando io vi invito prima di cominciare di iscrivervi al canale attivando amichetti miei la campanellina delle notifiche Per non perdervi nessun mio video e nessuna live tutti i giorni alle ore 18 Mi raccomando ogni giorno alle ore 18 per fare il provino e giocare sempre con me Quindi attiva la campanella ed iscriviti ed ovviamente momento super sacro negozi oggetti Tasto supporto creator in basso a destra ed inserite l'unico solo è delimitabile Sono tre si Gio trattino x97 tutto a maiuscolo proprio come potete vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me E se l'utilizzi ascolta spamma il tuo ID più volte che puoi qui sotto nei commenti 100, 200, 300 volte E chi lo utilizzerà e spammerà più volte riceverà la richiesta di qualcuno Beh probabilmente alla mia mi raccomando buona fortuna Guardate un po' cosa c'è proprio qui dietro di me o comunque davanti a voi da qualche parte Portrait ma cosa c'è scritto in basso a sinistra Icon Sirius Guardate un po' la skin di Lazarbeam Amici miei è veramente qualcosa di pazzesco Si parlava di questa skin da veramente tantissimo tempo E finalmente oggi il vostro buon gioixtro Intanto guardate qua poi riprendo la frase Lazarbeam mi si siede che cosa ti mangi un pasticcino E' molto buono il pasticcino Lazarbeam Anche a me piacciono i pasticcini Quindi non essere brutto e cattivo e dammi subito un pasticcino Altrimenti ti do un botte No sto scherzando Guardate un po' è proprio uscita ieri O dipende quando state guardando il video Comunque è uscita il 3 marzo E' una skin veramente bellissima E poi devo dire che è proprio fedele all'originale Wow Un portrait e sei riuscito a fare tantissime cose Puro di creare la skin perfetta di Lazarbeam A voi piace? A me è veramente tantissimo Esatto Questa volta dobbiamo proprio fare complimenti a portrait Allora ci sono due modi di ottenere la gratis Uno è sicuramente quello di giocare il torneo Che si è tenuto ieri E voi dite Gio non lo puoi giocare Sì mentre ve lo sto mostrando Perché devo assolvere il mio dovere professionale Quindi il 3 marzo 2021 Lanzare è fresh Diciamo dovrebbe essere il suo amico Super knockball will take place Quindi insomma E' un torneo ispirato All'arma più All'arma preferita di Lanzare beam Va bene Quindi la flick La flick knock pistol Oh mamma mia Va bene Un torneo in duo Quindi praticamente Lo dovevate giocare in coppie E se arrivavate Entro un tot ovviamente Di posizione nel rank Cosa che per me sarebbe stata possibile Potevate ottenere gratuitamente questa skin Quindi siccome non è possibile Io almeno cerco di trovare un po' Gli escamotage Cosa molto importante Ovviamente sono sempre questi americani Che mettono i glitch Non va assolutamente fatto Quindi mi raccomando Non provate Esce nello shop Shoppatela con il codice Gio trattino X 97 Mi raccomando E poi se qualcosa non va a questo glitch Prendetevela con gli americani E insultate loro E come vi dico sempre Scrivete Influenzate negativamente Il nostro amichetto Gio Comunque come possiamo Provare ad ottenere questa skin Beh ci sono effettivamente Tanti modi Quello che vi voglio mostrare oggi È il più semplice Intanto possiamo vedere qui Addirittura il rank Per affinché ti possano dare Questa skin insomma Vediamo un po' Ovviamente sto diviso In Europa devi essere Per avere l'outfit Dal duecentesimo Al milleottocentesimo Mentre ovviamente Se volevi avere tutto completo Dal primo Al duecentesimo Cosa che veramente Vabbè io arrivo prima Nel NA West NA West Dal primo al cinquantesimo Quindi Porca miseria C'è la stessa È ridotta veramente tanto Però siccome vi dico Non sono forte Cercavo di un escamotaggio Prima di mostrarvi il glitch Vi voglio dire Le ultime news Le ultime cose Che sappiamo insomma Della season 6 Infatti Alcuni leakers Sono ancora in dubbio Per la data di sciuta Della nuova stagione Addirittura Tutti mi avete detto Guarda che l'evento È il 3 marzo Ragazzi Il 3 marzo è passato Non c'è stato assolutamente Nessun evento Ve lo posso assicurare Anche in live Mi hanno scritto Ma guarda che c'è l'evento No ragazzi Non c'è nessun evento Voi non vi dovete evitare Da chi mette in giro Oggi a caso Devono essere sempre Confermate Da leakers Autorevoli Ok Per quanto riguarda L'evento Dovrà uscire Probabilmente Verso il 15 O 16 marzo Infatti la data Penso sia stata Modificata E addirittura Stavano parlando I leakers Di una Di una stravagante Idea da parte Di Donald Mustard Del direttore creativo Che ha pensato Proprio di introdurre Un evento finale Veramente spaziale Ma proprio Nel vero senso Della parola Infatti stavano pensando Di ambientarlo Nello spazio Io non so veramente Più cosa Abbia bisogno Fortale di inventarsi Perché un evento Nello spazio Non ha veramente Alcun senso Veramente Io non ho parole Intanto vediamo ancora Questa skin E poi comunque Altra cosa Che vi dovevo dire Sì Fortale ha aggiunto Una nuova arma Infatti è ritornata Alla mitraietta Che mi dicevate Che ce l'ho pure In season 2 Io assolutamente Non lo so Però so solo Che è veramente Molto molto forte Con l'ultimo aggiornamento Che è l'ultimo Ragazzi Prima dell'uscita Della season 6 Di Fortnite Esatto Preparatevi l'attesa Finalmente O sarei dire Molto snervante È finita E adesso È il momento Di goderci La nostra nuova stagione Ma detto questo Andiamo subito al glitch Siamo nella pagina Sicuramente Più bella di tutte Quale direte voi Beh ragazzi miei Quella di Fortnite Quella del codice creatore Cosa molto importante È controllare Di andare intanto Nella schermata Dopodiché Inserire La modalità creativa Ovviamente Io non lavoro Mi sto solo Semplicemente dicendo Come hanno detto Gli americani Ma vi ripeto Se non funziona Non dovete prenderla con me È creare Prendermela Come non so Anche più parlare Ed avviare Una partita creativa Preparatevi Perché è veramente Super super facile Per i tranquilli Ragazzi È praticamente Lo stesso progenimento Lo stesso meccanismo Di ogni glitch Che vi porto Quante volte Ve lo devo dire Ragazzi miei Diverti di gravi partite Con gli amici Assolutamente Tanto guardate Un po' come la nuova Abbing creativa Dovete andare Dove c'è la vostra isola Ok Ecco qui Isola temperata 2 Dovete entrare In quest'isola Premere doppio spazio Per chi gioca da pc Oppure E comunque Il tasto per volare Per chi gioca da pad E rimanere Sospesi in aria Dopodiché dovete Recarvi Nella zona che si trova Tra pantano palpitante E sepi di agrifoglio E percorrerla in volo Dopodiché Quittare dalla creativa Quindi fare Torno al centro Abbandona Modalità creativa E inviare Un sussurro Un messaggio Cosa scrivere In questo sussurro Ascoltatemi bene E prestate attenzione Ragazzi Dovete scrivere Slash Get Staccato Free Staccato Skin Spazio Lazarbeam Si scrive ovviamente Lazarbeam E come numeri Dovete digitare 3 0 Che è il solito codice Che comunque vi dico sempre 1 Ce l'ho scritto Tra l'altro qui 3 9 3 0 2 4 6 8 Dopodiché Dopo aver fatto ciò Inviate il messaggio Fate Ovviamente Seleziona modalità di gioco Io vi ripeto Non l'ho fatto Questi grigi non vanno fatti E ovviamente Se non funzionano Io ve li porto Con la speranza Che possono funzionare Che possono rendervi felici Poi ovviamente Ragazzi Speriamo un po' Che funzionino Dopodiché Abbiamo E ritornando In pubblica Dovreste nel menu di gioco Trovare la skin Del buon Lazarbeam Ovviamente stiamo parlando Della skin E del piccone Non di tutto il bundle completo Come sempre vi ricordo Ragazzoli Di condividere il video Con tutti i vostri amici Non dimenticate Di lasciare un bel mi piace E ovviamente Sempre codice creatore Gio trattino X97 Nel negozio oggetti Mi raccomando Vi ricordo Che se avete Twitch Potete andarmi a seguire Trovate il link Qui sotto in descrizione Andatemi a seguire su Twitch Lì sono in live Ogni giorno alle 14 E se avete Amazon Prime Ovviamente Vi abbonate da me Mi raccomando Let's go